Ben ragazzi, siamo i Granals, sono i Granals, siamo tornati qui con un nuovo video e oggi andiamo a fare un video che voi avete già visto con Omnitol e Xenic, ovviamente e Frax, a casa dei Frax, però oggi siamo in vacanza, siamo in Calabria, giusto? Giusto! Sì, dai cazzi suoi! Siamo in Calabria con gli amici, Xenic come abbiamo già detto nel log, abbiamo già detto non c'è sta in Calabria, sta a casa, quindi facciamo un video, facciamo obbligo verità e qui c'è sta L-Doppia, c'è sta il gasolino, c'è sta il proteinina, c'è sta Ciccio, lo stronzo Ciccio di Torino, lui è di Torino, è da Juve, c'è stata tornata da Juve e mi sono ridotta a far video con i Giumentini, però Xenic, noi siamo gente aperta e con le gambe aperte e quindi... A Lopo! E con lui, io direi che devi far cominciare, che è che qualcuno vuole cominciare a offrire volontario? No! Ti mazza? Io, io, io! Ti offrivo volontario te? Sì, per questo per... Facciamo a livello estremo! Estremissimo! L'estremo di obbligo verità! Se va adesso! Continua! Allora, obbligo verità? No, obbligo! Obbligo dai! Obbligo per i ragazzi... Dire parole a letto dopo aver detto qualsiasi cosa nei prossimi dieci minuti! Quindi tu qualsiasi cosa che dici da un po' devi dire a letto! Ogni frase da definire con a letto! Ok, 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 a letto! Ok, a letto! Ok, a letto! Ok, abbiamo fatto, passiamo alla prossima! Si, ma conto dieci minuti, giusto, passiamo alla prossima! A letto! A letto! A letto! Eh, ogni frase che tu dici tu dici a letto! Scusate, sono retrogado! A letto! A letto! Eh, non l'hai detto! Lo devi di! A letto! A letto! A letto! Nooo! Non è che dici a letto per dieci minuti! Ogni frase che tu dici! Ogni frase che ti dici devi finire con a letto per dieci minuti! Ok, scusate! Ce la parlo! A letto! Ah! 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 Cucuria! Parchè! Dicci! Bravare la cosa forno, raga! C'è? Tan tan! Cosìinizi cinta! успoe! Ah, già che хороший v значito per i brividi... Ah! Giury la mette! Ah! Parchè! 钱! No! Ma no! No, perché i miei binibidis Bon ricorda! Ah! Cosa ci significa? Chi sei cercando la prezzazione? Eh! Eh!! per l'idea di amare io ho fatto un'esercizio vabbè obbligo sebbrile ma sono venuti a un'ora di un'ora di un'ora di un'ora di un'ora per quale c'è un'ora di 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 un'ora un'ora di un'ora di un'ora di un'ora adegisciare una volta davisciante a letto un attore famoso a letto, un calciatore a letto, un'attrice a letto super mario paludelli a letto c'è giù c'è una volta le paludelli no ma si cazzi tu cazzi i rallyplagic no ma mi interessa approfondiamo perchè ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ha capitato a letto vai tocca l doppio l doppio l doppio l 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